BASTA! Ho fatto tutta questa strada per niente, per niente! Le sfere del drago funzionano quando sono tutte e sette insieme. Pan non te l'ha detto. Ciao! Tu chi sei? Allora vediamo, sono... il tuo... Bis? Bis? Urch, quanto tempo è passato! Beh, puoi chiamarmi semplicemente Nonno Goku. Nonno! Goku? Il mio trisemolo! Già... Ti ho visto combattere, lo sai. Sei fortissimo e io sono molto orgoglioso di te. No, non è vero. Non sono forte come pensi tu. Cosa dici, sciocchino? Certo che sei forte, devi credermi. Per te? Sono stato coraggioso? Eh sì, certo! Anzi, sei stato molto coraggioso. Anche perché essendo mio nipote di... Primo, secondo, terzo, quarto... Beh, insomma, essendo mio nipote hai del mio sangue nelle vene. Però, non sono riuscita a salvare il mio amico Pac. Ehi, Goku, ciao! Pac, sei tu! Goku! Nonna Ban, che bello, sei guarita! Allora ha funzionato! Avevi qualche dubbio sul fatto che vi riprendessi? La tua nonna è una roccia, non dimenticarlo! Mi è andato tutto per il meglio. La sfera del drago ha funzionato, ha esaudito il mio desiderio! Nonno Goku! No, ti sbagli! Non è stata la sfera del drago ad aiutarli. È stato soltanto il tuo coraggio! Mi raccomando, continua così! Certo! Certo!